Amile montagne, le vette innevate e i panorami mozzafiato. Nel mondo dell'ultrarunning, ogni passo è un capitolo di determinazione e resistenza, un racconto epico scritto dai piedi e narrato dal cuore. La tua profonda passione è alimentata da grandi sacrifici. La tua profonda passione è alimentata da grandi sacrifici. La tua profonda passione è alimentata da grandi sacrifici. Una preparazione che parte dal cuore. La tua profonda passione è alimentata da grandi sacrifici. Dalle gare internazionali agli eventi con migliaia di podisti. La tua profonda passione è alimentata da grandi sacrifici. La tua profonda passione è alimentata da grandi sacrifici. La tua profonda passione è alimentata da grandi sacrifici. Una passione infinita. La passione infinita. Non è bellissimo allenarsi in Valtaro, abbracciando i sentieri di Tarsogno. La passione infinita. La passione infinita. La passione infinita. Fatica e sudore sui sentieri. La passione infinita. 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 La passione infinita.